good morning juventus premessa questo non è un video di calcio mercato questa è una pazza pazza idea che ho avuto io e siccome non si può parlare sempre del calcio mercato che di cui parlano i giornali perché continuano in maniera ossessiva ripetere tutti i giorni gli stessi nomi quando poi abbiamo visto che per adesso non è successo un tubo di quello che hanno detto osimennico gonzales gudmund son chiesa è una roba che ovviamente uno uno impazzisce infatti ho smesso di seguire attendo i comunicati ufficiali come fanno la maggior parte delle persone saranno di mente io dovrei occuparmi anche del calcio mercato o perlomeno delle notizie che arrivano del calcio mercato visto avendo un canale youtube però vi dico la verità preferisco fare meno video preferisco fare meno visual però aspettare perché francamente a me la pantomima di todiboh tutte queste menate calafiore tutte queste arriva sicure fatta arriva non sono stucchevoli e poi oltretutto ti fanno anche fare brutta figura perché magari tutti esponi perché credi che quello che ti sia che ti è stato detto o che hai sentito dire sia vero e quindi magari fai anche delle analisi tattiche no prevedi come potrà giocare come non potrà giocare fatto sta che è da gennaio che cop manners dovrebbe essere un giocatore della juventus oggi ne abbiamo 13 siamo quasi a ferragosto e cop manners tra l'altro domani sera la sua squadra giocherà perché lui pare che non possa perché non sta bene giocherà la finale supercoppa europea che io seguirò ovviamente farò il video perché mi sembra giusto visto che tanti anni che non ci va una squadra italiana ma tanti ma tanti ma tanti bene signori allora scambio pazzo io ho fatto un ragionamento di questo tipo osimene sta tenendo di nostaggio il napoli perché essendo un giocatore che ha una clausola da recissoria da 130 milioni che ovviamente non verrà mai pagata da nessuno nessuno pagherà mai 130 milioni conte è arrabbiatissimo e ha ragione perché gli avevano detto guarda non ti preoccupare perché tu cerca di convincere saraveglia rimanere di lorenzo rimanere osimene lascia perdere perché abbiamo già un patto d'onore con lui lo lasciamo andare ci sono varie squadre che sono interessate a lui quindi non ti preoccupare con quello che incassiamo facciamo il calcio mercato ti compriamo i giocatori che ti servono hanno fatto i conti senza l'oste a torino hanno fatto il passo più lungo della gamba a napoli hanno fatto i conti senza l'oste questo dimostra come il mercato del calcio sia una roba veramente a volte anche un po comica no è un gran un gran caos un gran casino bene dall'altra parte noi abbiamo la juventus che ha chiesa che voleva delle cifre spropositate di rinnovo dopo non esserce le meritate e come uno che fa il lavativo no non si presenta al lavoro oppure quando al lavoro anziché fare quello che deve fare cazzeggia prende il caffè fuma 50 sigarette ogni tre per due esce come certe persone che ho conosciuto io in passato no che facevano finta di lavorare andavano fuori a fumare ogni cinque minuti spacciandosi per grandi lavoratori e chiede l'aumento va dal capo e dice guarda voglio l'aumento perché fumo molto quindi le sigarette costano ne ho bisogno invece no parlando di chiesa appunto ha chiesto l'aumento alla società non ci sta allora io ho fatto un aggiornamento di questo tipo ditemi se mi seguite sono stato molto basso eh ve lo dico prima io penso che osimen 130 milioni non gli da nessuno quindi diciamo 100 va bene vi va bene 100 milioni io penso che con 100 milioni di valutazione dell'aumento sarebbe contento potrebbe potrebbe cominciare a trattare chiesa va bene 20 facciamo 20 perché è in scadenza di contratto fra un anno giocatore piaccia conte 20 facciamo 50 milioni 40 50 milioni per vlavic ci state 40 50 decisete voi 40 50 io sto un po alto dai facciamo 50 perché fin dei conti 50 di vlavic 20 di chiesa con guaglia al napoli di 30 milioni e ci portiamo a casa osimen perché max propone questa cosa perché chiesa ormai credo che la frattura sia insanabile io lo sapete l'ho detto più volte lo ripetisco in questo video io ci spero sempre che venga reintegrato perché io sono convinto che con tiago motta chiesa farebbe sfracelli farebbe farebbe giocherebbe rinascerebbe tornerebbe il chiesa dell'europeo se non meglio addirittura se sta bene fisicamente ma vlavice secondo me non va bene secondo me vlavice non va bene io ho tanta paura ho tanta tanta paura siccome so che questo video è un video provocatorio e so che vlavice non andrà via dalla juve lo dico chiaramente vlavice non andrà via dalla juve quindi è un what if no e se questo questo come nella tradizione classica marvelliana se noi riuscissimo a dare vlavice chiesa più 30 milioni di conguaglio al napoli o 20 o 25 più bonus noi ci porteremmo osyman a torino e io sono convinto che osyman nella juve di tiago motta con due ali magari o un'ala presa giusta con ildiz e con magari nico gonzalez o con gallino con chi volete voi più copmeneas e questo qua è io sto sempre aspettando che arrivi no mi hanno detto la settimana scorsa che era già fatta sotto il mio canale quando io ho detto che secondo me era difficile se non addirittura che non arrivasse ma cosa stai dicendo sei un cazzaro cazzare siete voi copmeneas non è ancora arrivata la juventus almeno a tutt'oggi non è arrivato per cui signori di cosa stiamo parlando cioè avremo l'opportunità di prendere uno dei centravanti più forti che ci sono perché osyman non può rimanere ostaggio del napoli chiesa non può rimanere ostaggio della juventus ovviamente con chiesa non riusciremo mai a portare a casa osyman perché come minimo gli devi dare 80 milioni e la juve dove cavolo doveva trovare 80 milioni per osyman ma se tu oltre chiesa ci metti anche il bonus vlaovic il problema qual è adesso veniamo alla realtà che questa cosa non accadrà mai non potrà mai accadere per due motivi primo perché osyman prende 11 milioni di ingaggio e la juventus al tetto ingaggi che è alto e siccome già vlaovic sarebbe comodo darlo via perché va crescendo anche lui arriverà a prendere 12 milioni il napoli non prenderà mai vlaovic perché prende questa somma per cui adesso non ce ne rendiamo conto ma vlaovic adesso è un problema tecnico perché se continua a giocare come sta giocando nel finale campionato e nel precampionato vuol dire che si sta involvendo perché non vede la porta l'auvic non vede la porta cioè a un metro dalla porta di testa la butta fuori a tre metri dalla porta coi piedi la butta fuori non dico che fa dei tiri il portiere fa dei paratoni che ci sta che ci sta che il portiere avversario fa dei paratoni no non vede la porta noi abbiamo un centro avanti su cui si si baserà tutto il gioco di chiagomotta che non vede la porta e questo mi preoccupa tantissimo per questo che io dico tenete milic perché milic che non è un non è un top player ma non lo è neanche vlaovic la porta la vede se va se milic lo metti davanti la porta milic la porta la vede perché l'ha sempre vista nella sua carriera per cui occio occio vlaovic chiesa lo voleva lo voleva il napoli ma da solo non è possibile io ripeto io farei subito lo scambio chiesa raspadori perché per me raspadori sa giocare ala sa giocare prima punta sa giocare seconda punta ha i piedi buoni e potrebbe essere molto utile nel gioco di chiagomotta però credo che non è stupido conte lo sto direttore mettendo punta centrale adesso in questo momento che non ha nessuno per cui è un peccato veramente un peccato che quest'operazione non si possa fare non si possa fare perché io credo ditemi se se la cosa vi ha stuzzicato oggi ho voluto fare un good morning un po così provocatorio un good morning un po sognatore no vi sarebbe piaciuto vi piacerebbe vi sarebbe piaciuto uno scambio vlaovic chiesa per osimene più 30 milioni al napoli ovviamente non a noi mi sarebbe piaciuto a me sì perché io sono convinto che osimene è uno che cambiando aria perché ormai credo che si siano rotti anche un po i rapporti a napoli non vorrei le sciocchezze cambiando aria venendo la juventus farebbe grandi cose e guardate che prendendo osimene prendendo osimene la juventus avrebbe uno dei più forti perché per me osimene è più forte di holland e per certi versi potrebbe diventare anche più forte di mbappé però prenderebbe uno di quei livelli qua c'è un top player perché osimene è un top player vlaovic no è inutile vlaovic è uno che se va in forma e liberamente i gol li sa fare perché non sto dicendo che vlaovic è uno che non fa i gol ma io mi sto preoccupando del trend avete presente il trend non la tendenza come si dice non è un gergo moderno la tendenza di vlaovic è quella di non segnare ultimamente poi sbaglia pure i rigori ma a parte che li batterà da grass luiz perché l'hanno già detto che li batterà da grass luiz però non male però ragazzi è preoccupante questa cosa cioè noi a pochi giorni dall'inizio del campionato ci mancano le ali che devono servire la punta e abbiamo una punta che è spuntata perché non fa gol per cui incrociamo le dita ovviamente questa mia operazione fanta calcio fanta mercato non avverrà mai magari sarebbe bello ma speriamo che vlaovici incominci a cambiare registro perché le amiche a voi estive se mai non segna sapete cosa me ne frega il problema è che io voglio che faccia gol poi già partire col como poi col verona poi quella roma perché se mi sta mi fa un gol col como o due gol col como o tre gol col como e poi mi sta tre quattro cinque partite senza segnare anche no anche no come diceva la capra che avevamo prima meglio vincere sei partite una zero che una sei a zero su questo sono d'accordo con lui perché sei partite una zero fai 18 punti una partita sei a zero fai tre poi magari perdi le altre cinque quindi è il risultato che conta poi chiaro che se il risultato avviene attraverso un bel gioco e dei belli interpreti tanto meglio quindi non lo so io francamente sono molto ma molto ma molto preoccupato non lo sto criticando e non lo sto scaricando l'avis perché io sono sempre stato un suo sostenitore però signori arriva un momento in cui anche dei tuoi le tue le tue icone i tuoi idoli li scarichi nel senso buono il termine nedved che è stato uno dei giocatori che ho amato di più in assoluto in assoluto di tutta la storia juventina quando quando segue la juventus l'ultimo anno era imbarazzante non sapeva più fare un cross faceva dei tiri sbilenchi sopra la traversa e non vedevo l'ora che se ne andasse perché ormai e aveva finita la sua la sua parabola ormai era era discendente di steiner il pendolino che era stato meraviglioso nei primi quattro cinque anni ha cominciato a diventare imbarazzante buttava via i palloni si scartava da solo cioè quando giocatore sandro nei primi due anni era ottimo giocatore poi è diventato veramente un peso un peso per la juventus giocatori hanno le parabole no quando finisce il loro loro stellone il loro periodo di auge diventano dei pesi e francamente la mia paura è che vlavic possa diventare un problema perché poi poi se capiscono le altre squadre che tu lo vuoi vendere magari qualcuno che te lo vuoi comprare lo trovi ma non ti da 60 70 milioni che la valutazione della sua ma te ne da 20 25 non di più non di più anche perché ha un ingaggio folle e questo dobbiamo ringraziare la vecchia gestione no la gestione parati cineved che come dirigente era veramente pessimo tanto grande come giocatore pessimo come dirigente agnelli e arriva bene hanno combinato più danni loro che la peste o la grandine visto che siamo in tema in questo periodo di afa estiva io vi auguro una buona giornata ci si vede domani con good morning juventus e dopo la partita con l'analisi di atalanta real madrid finale di supercoppa europea beati loro che ci sono noi no c'è ciao ciao